Per esempio, per la verifica di ipotesi sulla media, scegliamo come statistica test z di x medio, già visto per la lezione 4. Se l'ipotesi nulla è vera, allora mu sarà uguale al valore mu0, e in quel caso z di x medio dobbiamo scriverla in questo modo, x medio meno mu0 diviso sigma diviso radice di n, che si distribuisce secondo una normale standardizzata. Quindi, sotto la condizione in cui l'ipotesi nulla è vera, abbiamo questa statistica test. Quindi la statistica test che si sceglie per la verifica di ipotesi è sempre la statistica test sotto la condizione in cui l'ipotesi nulla è vera, e quindi in questo caso sotto la condizione in cui mu sia uguale a un certo valore mu0. Vediamo un esempio, se n è abbastanza grande. Vogliamo verificare se la spesa media mensile delle famiglie di Milano è significativamente differente da 1.500 euro, sapendo che lo scarto quadratico medio è di 1.000 euro, ad un livello di significatività pari al 5%. Consideriamo un campione di 250 famiglie di Milano e ne calcoliamo la spesa media, uguale a 1.250 euro. Quindi qui n è abbastanza grande, uguale a 250, servendoci quindi sempre delle osservazioni campionare, vogliamo verificare se la spesa media mensile delle famiglie di Milano è significativamente differente dal valore 1.500. sigma sarebbe lo scarto quadratico medio dell'universo, uguale a 1.000 euro, x medio uguale a 1.250, che sarebbe la media della spesa mensile calcolata su queste 250 famiglie del campione, ipotesi nulla, mu uguale a 1.500. Ipotesi alternativa sarà bilaterale, in quanto qui nella traccia abbiamo il termine differente, quindi h1, mu diverso da 1.500. mu0, quindi, è uguale a 1.500, che sarebbe il valore che ipotizziamo nell'ipotesi nulla. z di x medio uguale a x medio meno mu0 diviso sigma diviso radice di n. Costruiamo quindi la nostra statistica test, 1.250, che sarebbe x medio, meno mu0, 1.500, diviso sigma, 1.000, diviso radice di 250, cioè radice di n, uguale a meno 2.50. Questa è la nostra statistica test calcolata sul nostro campione. L'ipotesi alternativa è bilaterale, quindi in questo caso abbiamo al centro l'area uguale a 1 meno alfa, in questo caso uguale a 0.95, in quanto alfa il livello di significatività abbiamo visto che è del 5%, quindi 0.05, quindi alfa mezzi e alfa mezzi. In questo caso 0.05 diviso 2, quindi 0.025. Ovviamente qui questi due paletti indicano meno z di alfa mezzi e più z di alfa mezzi. In questo caso meno 1.96 e più 1.96. La regione qui al centro è detta regione di accettazione, invece le due code vengono dette regioni di rifiuto. E adesso vediamo perché. La nostra statistica test z di x medio era uguale a meno 2.50. Quindi se questa statistica test cade nella regione di accettazione, quindi cade tra meno z di alfa mezzi più z di alfa mezzi, allora noi accettiamo l'ipotesi nulla. Se invece cade nelle regioni di rifiuto, quindi se è inferiore a meno z di alfa mezzi o se è superiore a più z di alfa mezzi, allora noi rifiutiamo l'ipotesi nulla. In questo caso meno 2.50 cade nella regione di rifiuto, in quanto è inferiore a meno z di alfa mezzi, cioè inferiore a meno 1.96. Quindi dobbiamo rifiutare l'ipotesi nulla. Quindi la spesa media mensile delle famiglie di Milano, secondo questa indagine, è da ritenersi significativamente diversa da 1.500 euro. Quindi rifiutiamo l'ipotesi nulla. Ricordo sempre che questi sono solo esempi, quindi non sono dati reali. Se la statistica test quindi cade nella regione di accettazione, noi non rifiutiamo l'ipotesi nulla. Se invece cade nella regione di rifiuto, allora rifiutiamo l'ipotesi nulla. In quest'ultimo caso il test si dice significativo. Perché dire non rifiuto l'ipotesi nulla anziché accetto l'ipotesi nulla? Perché noi non possiamo mai essere certi riguardo la veridicità di un'ipotesi. Quindi non possiamo mai accettarla come vera al 100%. Ci sarà sempre un margine di dubbio. Quindi è più corretto dire non rifiutiamo l'ipotesi nulla anziché accettiamo. Possiamo commettere nella verifica di ipotesi due tipi di errore. L'errore di primo tipo, quando rifiutiamo l'ipotesi nulla, quando questa in realtà è vera. O l'errore di secondo tipo, quando non rifiutiamo l'ipotesi nulla, quando questa in realtà è falsa e quindi andava rifiutata. Alfa sarebbe la probabilità di commettere l'errore di primo tipo. Alfa è proprio il livello di significatività. Quindi nell'esercizio precedente avevamo il 5% di probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando questa in realtà è vera. Quindi c'è sempre un margine di possibilità di errore. Beta invece è la probabilità di commettere l'errore di secondo tipo. Cioè la probabilità di non rifiutare l'ipotesi nulla quando questa in realtà è falsa. 1-beta sarebbe la probabilità di non commettere l'errore di secondo tipo. 1-beta è detto potenza del test. Quindi 1-beta sarebbe la probabilità di non non rifiutare l'ipotesi nulla quando questa è falsa. In altre parole sarebbe la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando questa è falsa. Quindi nessun errore. 1-beta indica la probabilità di non commettere l'errore di secondo tipo. Se aumenta alfa diminuisce beta e viceversa. Per cui non è possibile ridurre sia alfa che beta. Cioè non è possibile ridurre entrambi i tipi di errore contemporaneamente. Però dobbiamo tenere conto che gli errori di primo tipo sono i più pericolosi. Perché l'ipotesi nulla H0 spesso si basa su indagini precedenti. E rifiutarla quando questa in realtà è vera significa sostituirla con un'altra ipotesi e mandare all'aria tutto il lavoro svolto nelle precedenti indagini. Quindi gli errori di primo tipo per questo motivo sono più pericolosi. Quindi i test vengono formulati in modo tale che il valore di alfa sia il più basso possibile. Una volta tenuto basso il valore di alfa, poi vengono scelti i test con la massima potenza. Cioè quei test con il valore di beta abbastanza basso. I test che vedremo nelle prossime slide sono i test più potenti. Abbiamo il test zeta, il test id student e il test id quadro. Abbiamo anche il test F di Snell e Kolfischer, che però vedremo nella seconda parte di questa lezione. Vediamo i requisiti della statistica test. Della statistica test dobbiamo conoscerne la distribuzione sotto l'ipotesi nulla, cioè sotto la condizione in cui l'ipotesi nulla sia vera. Proprio come abbiamo visto per zeta di x medio, conoscevamo la sua distribuzione sotto la condizione in cui l'ipotesi nulla è vera, che era una normale standardizzata. La statistica test in più deve essere non distorta e in più deve essere anche consistente. Vediamo invece quando abbiamo a che fare con un'ipotesi alternativa unilaterale. L'ipotesi alternativa unilaterale sinistra è tale che la regione di rifiuto si situerà soltanto nella coda sinistra. Ovviamente abbiamo soltanto una coda come regione di rifiuto, in quanto l'ipotesi alternativa è unilaterale, per cui abbiamo qui l'area uguale a 1 meno alfa e qui l'area sarà uguale ad alfa, in questo caso 0,05. Quindi questa è la regione di accettazione e questa è la regione di rifiuto. Qui abbiamo meno zeta di alfa, quindi non meno zeta di alfa mezzi, come per la bilaterale, ma meno zeta di alfa. Alcuni libri lo indicano con meno zeta di 2 alfa, però il modo di calcolarlo è lo stesso che adesso vedremo. Meno zeta di alfa sarebbe il valore di zeta in corrispondenza della funzione di ripartizione uguale ad alfa, in questo caso uguale a 0,05. Quindi vado sulla tabella della funzione di ripartizione, vado a cercare all'interno il valore uguale a 0,05, o meglio il valore che più si approssima a 0,05, e lo ottengo qui, in corrispondenza della riga uguale a meno 1,6 e della colonna 0,04. Quindi meno zeta di alfa è uguale a meno 1,64. Per quanto riguarda l'unilaterale destra, la regione di rifiuto sarà nella coda destra. Quindi regione di accettazione a sinistra, regione di rifiuto a destra. Dobbiamo calcolare il valore più zeta di alfa. Come lo calcoliamo? Semplicemente qui la curva sappiamo che è simmetrica, più zeta di alfa sarebbe il valore zeta in corrispondenza della funzione di ripartizione uguale ad alfa, però considerato come positivo. Quindi non meno 1,64, bensì più 1,64 in questo caso. Vediamo un esempio quando l'ipotesi alternativa è unilaterale. Vogliamo sottoporre a verifica l'ipotesi che la spesa media mensile delle famiglie di Milano sia significativamente inferiore a 1,500 euro, sapendo che lo scarto quadratico medio è di 1,000 euro, ad un livello di significatività pari all'1%. Consideriamo un campione di 250 famiglie di Milano e ne calcoliamo la spesa media, 1,250 euro. Quindi n è abbastanza grande, uguale a 250, sigma è uguale a 1,000, x medio è 1,250, la verifica di ipotesi è h0, mu uguale a 1,500, ipotesi alternativa invece unilaterale, sinistra, in quanto abbiamo il termine inferiore nella traccia. Quindi mu inferiore a 1,500, mu0 uguale a 1,500, la statistica test è sempre la stessa che abbiamo calcolato in precedenza, ipotesi alternativa unilaterale, sinistra, quindi 1 meno alfa, in questo caso 0,99, perché il livello di significatività è uguale all'1%, alfa uguale a 0,01. Devo calcolare il valore meno z di alfa. Quindi vado sulla tabella della funzione di partizione e vado a cercare il valore di z in corrispondenza di 0,01. Vado sulla tabella e vado a vedere qual è il valore che più si approssima a 0,01, che è questo qui, 0,0099. Lo trovo in corrispondenza della riga meno 2,3 e della colonna 0,03. Quindi, meno z di alfa uguale a meno 2,33, z di x medio uguale a meno 2,50 e cade nella regione di rifiuto, in quanto è inferiore a meno z di alfa. Quindi, devo rifiutare l'ipotesi nulla, quindi la spesa media mensile delle famiglie di Milano, secondo questa indagine, è da ritenersi significativamente inferiore a 1,500 euro, in quanto devo rifiutare l'ipotesi nulla. Quindi, se n è grande, utilizziamo come statistica test per la verifica di ipotesi z di x medio, che si distribuisce secondo una normale standardizzata. Grazie! Grazie.